Il carpet degli Oscar, perché tra tre ore circa, vediamo pure qualche immagine, ecco, tra tre ore circa sapremo la sorte del nostro film, del film del nostro garrone, Io Capitano, che concorre, come si sa, per l'Oscar, per il miglior film straniero. Sì, ricordiamo che c'è un solo capitano e quel capitano è Zanetti, ma detto questo... Però sei a Roma, sai che qui il capitano viene... Poi c'è anche il capitano futuro, poi di capitano ce n'è... Poi, insomma, in politica invece il capitano è un altro, come sappiamo, e anzi...